Grazie e bentornati in questo mio nuovo video Allora, quest'oggi siamo qui per farvi Sono qui anzi per farvi Per dirvi tutte le differenze Tra iPhone XS e iPhone XR Ma volevo annunciarvi anche un'altra cosa Quindi direi di non perdere tempo e cominciare subito con questo video Allora, la notizia che volevo annunciarvi era che Il 30 ottobre, quindi Oggi siamo al 25 26, 27, 28, 29, 30 Quindi martedì Ci sarà l'evento Apple Dove verranno svelati tutti i nuovi prodotti Cioè iPad, Pro X, iMac E forse la... ma sì La... la... la Power... beh, insomma La... la base caricabile Smart La Smart Power, mi sembra Poi... poi, poi, poi Adesso parliamo delle differenze tra iPhone XR e iPhone XS Allora, intanto La differenza più grande Cioè il prezzo Il prezzo, infatti, l'iPhone XR parte da 899 euro Che sono 400 euro in meno Rispetto all'iPhone XS Da 64 gigabyte Ora, sì, non mi venite a dire che l'iPhone XS costa poco Perché sì, parte da 999 euro Però l'iPhone XR è come se fosse un iPhone XS Max Forse è un po' più piccolo Quindi, insomma, parte da... Quanto è? 1099 e roba del genere Quindi sì Non 400, scusate, ma 200 euro in meno Poi La fotocamera La fotocamera ha una sola lente Ma anche, pur avendo una sola lente Consente di fare delle bellissime foto Soprattutto foto-ritratto consente di fare Questo come funziona? Funziona a livello software In che senso a livello software? C'è un software, c'è un programmino All'interno della fotocamera dell'iPhone All'interno dell'applicazione fotocamera Che gli consente di emulare l'effetto ritratto Delle due lenti Ovviamente, modificando Perché una volta scattata la foto Si può anche modificare Si può avere più ritratto Più... Più... Come si chiama? Più fuoco e meno fuoco Più apertura focale e meno apertura focale Ovviamente, più si apre il fuoco E più la messa a fuoco aumenta Più si diminuisce E più la messa a fuoco diminuisce Poi Non abbiamo il 3D Touch Per 3D Touch Però abbiamo un sostituto Che non è in tutto il sistema operativo Però, insomma, in alcune aree è stato emulato Cos'è? È il... Taptic Touch Taptic Touch Taptic Touch Taptic... 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 Taptic Touch Taptic Touch Roba del genere È un software È un sistema Che consente di emulare con una questione non forte Ma una questione prolungata il 3D Touch Ora, questo non è stato fatto con tutti Perché, ad esempio, le icone non ce l'hanno per ora Però, chissà che Apple non si decida E lo metta Chissà Poi Che è stato introdotto altro? È stato introdotto... Ah! Lo schermo Lo schermo Lo schermo È diminuito È diminuito l'intensità di grandezza Rispetto all'iPhone X Però All'iPhone XS Max Però, insomma, è di 5,8 Quindi è un iPhone 8 Plus Ha meno intensità di pixel Però, insomma, funziona abbastanza bene Ha un ottimo... Ah, è ottimo È un ottimo schermo Dai, anche se... Anche se non può sembrare Ma è un ottimo schermo Anche se può sembrare piccolo Se può sembrare... È un ottimo schermo Poi Parlando di altro Abbiamo... Sì Abbiamo una più grande batteria Sì, la batteria non è tanto grande Non è tanto più grande dell'iPhone XS Ma avendo meno funzioni da gestire Meno cose da gestire Ha molta meno dispersione di energia Quindi non... Non... Non dà problemi, insomma, di carica Poi, non abbiamo il retro in vetro Ma abbiamo il retro in plastica Però abbiamo ugualmente l'area carica wireless Inoltre non abbiamo lo schermo AMOLED Ma abbiamo lo schermo LCD Quella è la differenza tra AMOLED e LCD È che l'AMOLED consente effettivamente Quando non si usano Di utilizzare meno batteria Perché quando non si usano colori forti I pixel chiari si spengono E si accendono quelli scuri Che consumano meno Invece l'LCD Tutto questo non consente di farlo Perché Molto semplicemente L'LCD non ha questa potenzialità L'LCD Tutte... Quando lo schermo è acceso Sono accesi tutti i pixel Indifferentemente Se sono usati o meno Poi Che altro c'è di differenza? Niente Poi ha un processore a 12 Ha Praticamente L'iPhone XR Non ha tutte le funzioni di lusso Come l'iPhone XS E XS Max Poi Ha Tutto Veramente Veramente tutto Ha il Face ID Ha Tutto quello Che uno può desiderare Da un iPhone Di alto livello A parte Le varie funzioni di lusso Ma quelle Ci sono Solo sull'iPhone XS E XS Max Sull'iPhone XS È una specie di iPhone Di iPhone economico Ovviamente Comunque Oltre a tutte le differenze Anche hardware Software Perché anche a livello software Alcune cose non ci sono Come ad esempio La possibilità Anche nella tastiera Ovviamente Non essendoci in 3D Touch Non c'è nemmeno la possibilità Nella tastiera Di 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 avere un Il Cosoli Il Trackpad E Mi sembra Questo mi sembra Non ve lo assicuro Ma Mi sembra che L'iPhone XR Non abbia la sim Virtuale Mi sembra che non abbia La sim virtuale Perché è disponibile Solo su iPhone XS E iPhone XS Max Non Sull'iPhone X Come Ovviamente è giusto che sia Perché fare una sim virtuale È abbastanza costoso Voi mi potreste dire Ma no Non costa niente Invece fare una sim virtuale Costa E non poco Ve lo garantisco io Comunque Queste erano tutte le differenze Dell'iPhone X L'iPhone X è stato E Sono iniziati i preordini Il 19 Ottobre Dalle 9.01 Ma Le spedizioni E potete anche Incominciare A trovarle negli store Da domani 26 ottobre E l'iPhone XR Ricordo che C'è in tante colorazioni Bianco Rosa Blu Nero Rosso Me ne sono dimenticato Qualcuno Mi sembra giallo Ma non ne sono sicuro Comunque Le colorazioni Ovviamente Non sono al mio forte Potete immaginare Il perché Insomma Non potendo rivedere Non mi sono messo Insomma Tanto a controllare Le Le colorazioni Comunque Per le prime persone Che l'hanno visto Intanto Vi posso anticipare Tanto per farvi un po' di spoiler Che Il carrellino Della SIM Non è più In cima O dov'era Nei precedenti iPhone Sì Mi sembra in cima Ma è stato spostato Più verso il basso Del device Poi Altre piccole Differenze Niente Insomma Hanno Ha questa Sola lente Ha ovviamente Senza il tasto home Però insomma Non è Non è Staticamente Diverso Dall'iPhone 10S E 10S Max È uguale Assolutamente un po' La Lecate De la SIM Spostata Insomma Anche queste cose Insomma Non credo Che vi diano Vi diano Tanti problemi Non credo Che Ve ne importi niente Se l'iPhone 10S E l'iPhone 10S Max Abbiano la SIM Più spostata in alto Non credo Ah un'altra cosa L'iPhone 10S R Non è borderless Mi sa Mi sembra che non è borderless Quindi non ha la notch Questo perché ovviamente Fare un borderless Con l'LCD È molto 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 difficile Perché L'LCD È uno schermo Che occupa Di per sé Tanto spazio Però insomma Non credo Ve ne importi più di tanto Che sia borderless O meno Perché Ha un'ottima batteria E Quindi insomma Non credo Vi dia Poi Tanto fastidio Che l'iPhone vostro Sia borderless O meno Quindi ragazzi Io Spero vivamente Che questo video Vi sia piaciuto Se è così Lasciatemi Un bel commento E un bel like Visitate InfoShare.it Trovate il link In cima Alla descrizione E ora vi faccio vedere Un'ultima cosa Prima di salutarvi Che è molto molto bello Sono molto felice Di questo Perché Potrò caricarvi Il video Sicuramente Più velocemente Aspettate Ecco qua Ora lo recupero Ecco qui Il mio amico Questo Questo Cos'è questo? Questo Questo è un Powerline Cos'è un Powerline? Un Powerline È un Un diffusore Di linea internet Insomma L'avete Lo saprete anche voi Quindi ragazzi Io spero che questo video Vi sia piaciuto Se è così Lasciatemi un commento Un like E noi Come al solito Ci vediamo In un prossimo video Ciao a tutti 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 Ciao a tutti